Ciao ragazzi, io sono Oscar e benvenuti in questo nuovo video. Siamo appena arrivati ad Alba e stiamo per partire per un tour delle Langhe. Andiamo! Come in prima tappa del nostro tour abbiamo deciso di fermarci alla panchina rossa gigante o detta anche panchina della serenità, ottima location per scattare qualche foto. Dopo una breve sosta ci siamo rimessi in macchina direzione La Morra. Direzione Cappella delle Brunate. Lì c'è la Steffi, la Jè e Frala in fondo. Andiamo a vedere. E' la mia storia. 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 siamo a grizzane di cavour precisamente al castello e adesso andiamo a fare un'esperienza nuova a mangiare in un ristorante stellato chef mark lantieri andiamo a vedere un'esperienza Siamo appena usciti dal ristorante, un'esperienza davvero eccezionale, tutti i piatti buonissimi e abbiamo pranzato in una delle sale del castello, davvero perfetto, è uscito anche il sole e ci dirigiamo nel prossimo posto Dopo un breve tragitto siamo arrivati a Barolo Grazie a tutti Grazie a tutti Con l'ultima tappa della giornata abbiamo deciso di fare un giro al centro storico di Alba e intanto cercare anche un posto per cenare Grazie a tutti 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 Il secondo giorno del nostro tour nelle Langhe abbiamo deciso di visitare Neive e Bra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti